Aspettate, la cosa più bella è sentire quando lui si incatta con Higgins per i suoi cani, quindi manda via i cani davanti a tutti adesso. Beh, qui non ci sono cani, siamo tutti esseri umani, ma comunque lui era, Higgins era solito mettere a guardia della famosa villa di Robin Masters, questi due cani, Zeus e Apollo, che non amavano Magnum e per cui di conseguenza ogni volta che li vedeva lui si arrabbiava molto con Higgins, Higgins la prego, metta via quei cani! Grazie, grazie, arrivederci a tutti.